ciao e bentornato nel mio canale questo è un semplice augurio di buona pasqua a tutti voi sto in partenza vado un po di giorni in ferie e niente passa una buona pasqua una buona pasquetta e ci vediamo settimana prossima con nuovi tutorial che sto organizzando sul mondo linux sulle varie applicazioni anche windows e mi sto organizzando per organizzare una sezione per il retro gaming così poi vediamo come possiamo fare organizzeremo anche proprio un network dove gli utenti potranno giocare insieme a me eccetera eccetera ok ci vediamo buona pasqua nuovamente se non l'hai fatto iscriviti al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial la settimana prossima ciao e buona pasqua ancora